È una figura istituzionale nominata dal Ministero del Lavoro su designazione del Presidente della Provincia o il Sindaco della Città Metropolitana e si occupa principalmente della rimozione delle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro. Rivolgersi alla consiglia di parità può essere sempre un aiuto, nel senso che comunque permette anche il colloquio conoscitivo, il colloquio in cui si cerca di capire se effettivamente c'è la discriminazione o non c'è la discriminazione, perché molte volte sono anche disagi relazionali, sono disagi della persona. È importante sapere che la consigliere di parità può intervenire. In giudizio anche ad juvandum e nella conciliazione con l'azienda è comunque una persona terza che ha come dire un peso soprattutto in quanto l'accordo firmato nell'ufficio della consigliere di parità è un accordo vigente a tutti gli effetti. Sono stata nominata nel 2011 e in questi anni ho avuto come passaggi nell'ufficio della consiglia di parità circa un migliaio di casi all'anno. Si rivolge alla consigliera di parità il lavoratore o la lavoratrice che pensa di essere stata discriminata sul luogo di lavoro e devo dire che la prevalenza dei casi ovviamente sono state donne discriminate sia nell'accesso al mondo del lavoro e soprattutto poi nel mantenere il posto di lavoro dopo una maternità o addirittura dopo la seconda maternità. in quanto sia l'assenza prolungata dal lavoro che è comunque concesso dalla normativa in Italia rischia poi di penalizzare molto la donna al suo rientro sia perché l'azienda ha trovato altre soluzioni e molte volte la sostituta o il sostituto è giovane e costa meno e quindi viene reputato più conveniente dall'azienda e sia perché la donna ha perso i contatti e si trova in una situazione di molto disagio. Inoltre la mancanza di servizi, di welfare e poi la vicendarsi nel momento in cui crescono i figli e anche la presenza di anziani che vengono anche questi molte volte caricati alla figura femminile questo porta sempre di più un atteggiamento rinunciatario rispetto al lavoro che difficilmente poi viene recuperato. Devo dire che con la grande azienda è più semplice nel senso che di norma la grande azienda fa riferimento a una responsabilità sociale e quindi attua delle linee di welfare o di benefit aziendali che sono già improntati sul tema della conciliazione. Mentre è più difficile riuscire a trovare delle soluzioni con le piccole e medie aziende o addirittura con le micro imprese artigianali dove effettivamente il problema di una maternità può determinare anche dei serissimi problemi di tipo economici. In più devo anche dire che il mio mandato è stato svolto proprio durante gli anni della crisi e quindi purtroppo si è verificato che dietro la crisi sono spariti molti posti di lavoro al femminile. Altre casistiche che si sono presentate in questi anni sono stati purtroppo alcuni casi di molestie e di molestie sessuali nell'ambiente di lavoro. Casi anche di discriminazione pesante sono stati individuati con le denunce di alcune persone LGBT e quindi il cambiamento di sesso, la transizione nell'ambiente di lavoro oggi come oggi è ancora un grossissimo problema e causa di molte sofferenze in queste persone. Grazie per la visione!